Dopo sette mesi di chiusure imposte dalle misure di restrizione anti-covid, le palestre tornano ad aprire oggi con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. Una ripartenza che ha raccolto entusiasmo e voglia di ricominciare tra titolari e gestori delle tante sale presenti a Pesaro, ma anche tra i clienti che hanno potuto quindi riprendere gli allenamenti anche nelle sale pesi. Diverse però le regole tuttora in vigore e da rispettare. Rimane infatti ancora vietata la doccia negli spogliatoi, mentre ad essere garantita è la sanificazione degli attrezzi e la distanza minima di due metri, mentre sarà cura della palestra tenere un registro delle presenze utile per l'eventuale tracciamento di qualche caso positivo. La prenotazione per l'accesso alle sale permetterà inoltre di controllare l'affluenza all'interno della palestra. Chiaramente siamo contentissimi, dopo tanti mesi possiamo ricominciare a lavorare. La riapertura è stata anticipata di una settimana, ci ha colto un po' di sprovvista però abbiamo fatto il possibile per rendere agevole l'ingresso di tutti i clienti che verranno in palestra. Abbiamo chiaramente adottato tutte le linee guida e le emergenze che erano state già dettate lo scorso anno, quindi distanziamento, mascherine, tutti i dispositivi, spruzzini, dosatori, gel per le mani e via dicendo. Il periodo non è quello ideale perché le palestre notoriamente nel mesi estivi hanno un calo di frequenza, è normale. Speriamo un giugno decente almeno in modo tale da poter recuperare qualcosina, poi luglio-agosto si vedrà, ma la cosa importante è che tutti stiamo pregando e accendendo i cieli e che a settembre si possa ripartire anche con queste disposizioni, ma ripartire anche all'interno senza dover stare chiusi. Oggi sono esattamente sette mesi che siamo stati chiusi e quindi abbiamo voglia veramente di riprendere, di ripartire, di riabbracciare tutti quanti i nostri soci e di offrirgli benessere. Ovviamente secondo tutte le normative che sono vigenti, quindi ingressi contingentati, prenotazioni, due metri di distanza e si sta con la mascherina, non si possono fare le docce ma ok l'uso degli spogliatoi e le persone le vedo contente, si stanno già muovendo e ovviamente non è il momento ideale perché d'estate è un periodo un po' particolare per le palestre, storicamente insomma soprattutto i pesaresi vanno al mare, ma io sono fiduciosa, quest'anno sono veramente fiduciosa. Noi adesso vaglieremo di fare alcune lezioni al chiuso e alcune lezioni all'aperto perché alcune lezioni tipo lo spinning o la fitbox non possono essere portate fuori, altre lezioni invece le faremo un po' nel parcheggio, un po' nel parco qui vicino e anche per dare più possibilità alle persone dato che qui è contingentato di poter partecipare e fare ginnastica. Cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno ma il nostro settore è veramente stato messo a terra perché abbiamo avuto veramente poche sovvenzioni economiche già nel primo lockdown e in questi sette mesi non abbiamo visto praticamente nulla e quindi noi contiamo veramente nel buon senso dei soci e degli operatori di veramente iniziare a fare ginnastica per aiutarci.